E' uno strumento innovativo che nasce per agevolare l'accesso al credito a piccoli imprenditori, giovani e start-up in tempi rapidi, con risposte concrete e un'assistenza diretta. Negli uffici di confesercenti di Pesaro, in via salvo d'acquisto, apre lo sportello della casa del microcredito, mettendo a disposizione del neoimprenditore un tutor che lo supporterà nelle varie fasi fino all'approvazione e all'erogazione del finanziamento. Il servizio non sarà rivolto soltanto agli operatori commerciali, ma metterà a disposizione diversi prodotti, dai finanziamenti personali a quelli per lo studio dei figli, dei quali potranno usufruire anche i privati. Tutto l'iter della pratica, una volta che il nostro tutor avrà la documentazione, si svolge nell'arco di pochissimi giorni, paio di settimane, quindi l'erogazione è rapida, veloce, molto smart, il tutor si occupa soprattutto di tutto, quindi tutti i documenti vengono realizzati qui, tranne ovviamente le situazioni fiscali che devono essere dati dai professionisti, però tutto il resto, quindi la composizione del progetto, il business plan, quindi tutta la documentazione che serve per poter accedere al credito, viene preparata tutta qui in sede, in modo molto veloce, molto professionale, abbiamo avuto un bel litere anche di formazione per il nostro collega, per cui sì, la bella novità è anche quella, proprio la velocità nell'erogazione. La Cassa dunque fornisce un sostegno ai giovani professionisti e ai lavoratori autonomi che, pur avendo una buona idea imprenditoriale, non riescono ad accedere al credito bancario per mancanza di garanzie reali. L'importo massimo del finanziamento è di 50 mila euro in doppia erogazione, ovvero 40 mila alla delibera e ulteriori 10 mila dopo sei mesi di regolare ammortamento. La durata massima invece è di 84 mesi. Noi finanziamo non solo gli investimenti, ma naturalmente anche la liquidità necessaria a supportare questo particolare momento di aumento dei costi energetici. Abbiamo anziché anche creato un prodotto ad hoc, sostegno al costo di energia, gas e connessioni, proprio per supportare le piccolissime imprese, le imprese di vicinato, quindi il commercio, i servizi e così via, nel poter superare questo momento e nel dilazionare soprattutto i costi energetici. Ma naturalmente l'aspetto fondamentale è quello relativo alle nuove imprese. Ci sono tantissimi giovani che si sono affiancati, avvicinati a noi per richiedere credito. Hanno ottenuto il credito anche giovani ingegneri di 25 anni che hanno iniziato, grazie a noi, un'attività imprenditoriale per poter finanziare l'impresa. Abbiamo un budget importantissimo di raggiungere al 31-12-2023 circa 20 milioni. Speriamo che ci siano tantissime richieste da poterle esaurire.